ciao sono alessandro pittoni founder di palova stories e questo è ps post scriptum il podcast di approfondimento su fatti cronaca attualità della nostra città assieme a me ivan groz in compasso giornalista questo è il nostro punto di vista su quello che succede là fuori il nostro post scriptum nella puntata di oggi parleremo del supereroe che sta facendo infuriare le amministrazioni comunali e gioire i cittadini dei comuni interessati stiamo chiaramente parlando di flexi man sentiremo che ne pensa a riguardo massimo cavazzana sindaco di tribano uno dei comuni colpiti dalle gesta del supereroe però la questione di base resta una al di là del fatto dell'abbattimento e di tutto quello che sta capitando qua dobbiamo capire se noi in qualche maniera riusciamo a trovare un equilibrio questo sarà il frutto di un tavolo di lavoro che faremo con i colleghi sindaci per vedere se anche noi viene data ad esempio più autonomia di gestione di questi mezzi ciao ivan allora oggi è una puntata che aspettavi con ansia andiamo ad inquadrare la figura di questo supereroe nostrano flexi man è vero padova non sarà gotham city ma anche noi abbiamo il nostro giustiziere chi è flexi man e cosa sappiamo di lui è un gran mistero chi è flexi man evidentemente c'è qualcuno che da qualche mese si dà da fare diciamo per sabotare gli autovelox è cominciato tutto a maggio nel basso rodigino per poi diffondersi diciamo soprattutto in provincia di padova sono stati anche casi nel trevigiano ultimamente anche in piemonte e lombardia quindi sono un fenomeno molto diffuso chi è flexi man identikit chiaramente lo vorrebbero avere tutti perché lo stanno cercando in tantissimi e invece c'è la difficoltà appunto di capire chi possa essere una persona solo più persone coordinate non coordinate probabilmente più un'azione che viene emulata da tanti che pensano che questa sia la soluzione giusta per affrontare un tema che caro a tanti cittadini perché poi le multe soprattutto in un momento storico economico come questo diventano davvero un handicap per tutti quanti perché sono una spesa in più diventano quasi una tassa molti li vivono come un balzello come quelli che si pagavano per entrare da un comune all'altro durante il medioevo quindi è chiaro che non c'è una la posizione delle persone sempre posizione di sofferenza rispetto a questo il caso di cadoneghe è stato un caso particolare quello di quest'estate nel comune padovano perché centinaia di persone soprattutto residenti nel suo comune sono state multate più di migliaia di migliaia e migliaia di multe punti della patente persi eccetera quindi questo ha creato un movimento popolare ma flexi man intercetta questo malcontento ma non mette insieme delle persone io me lo immagino come un artigiano dopo tutto se è vero che è il flessibile lo strumento principe di questo tra virgolette strano supereroe è anche vero che è uno strumento che troviamo insomma nei furgoncini nelle macchine degli artigiani qui a nord est molto facilmente beh ivana hai spiegato molto bene anche l'origine del nome flexi man da flessibile che appunto uno degli attrezzi che più facilmente si possono trovare nella cassetta degli attrezzi dei lavoratori locali nonostante questo alcuni si oppongono comunque a chiamarlo così con questo nomignolo mi viene in mente la sindaca di villa del conte che invece vorrebbe chiamarlo delinquente perché secondo te beh lei da una parte giustamente attacca la modalità cioè non si può danneggiare il bene pubblico per come come atto di protesta e fin qua naturalmente la cosa assolutamente un senso poi dopo lei giustamente però dice anche che lei l'autovelox non è stata quella che lo ha posizionato non è il sindaco che ha deciso di metro il suo comune fa parte di un consorzio quindi insieme ad altri comuni si occupano di controllare il territorio ma anche appunto gli autovelox e quindi probabilmente anche lei ha capito che sì flexi ma non delinquente però tassare tassare multare i propri cittadini non è molto popolare e quindi soprattutto adesso che a pochi mesi dalle elezioni non ha voglia di rimettere un dispositivo possiamo dire magari un po pensando malignamente e possiamo anche aggiungere che quando fai parte di un consorzio di comuni le multe te li dividi con gli altri quindi perché mettersi contro i cittadini nel proprio comune quando in fondo non è che c'è questo gran guadagno visto che ne prendi insomma un decimo di quello che sono poi le entrate va detto che queste sono situazioni che fanno evidenziare quella che una contraddizione in termini perché nelle previsioni di entrate di ogni comune grande o piccolo che sia di tutta la penisola sono proprio conteggiate le multe che presumibilmente il prossimo anno saranno saranno date e ai danni dei cittadini anche questo è bizzarro perché come facciamo a sapere che il prossimo anno tot persone si comporteranno male o non avranno un comportamento giusto per quanto riguarda appunto il codice della strada. Il tema che tocchi è sicuramente molto rilevante Ivan nel senso che da un lato lo strumento dell'autovelox serve effettivamente a fare cassa per il comune dall'altro però è innegabile che sia anche un grande dissuasore di velocità e quindi uno strumento di sicurezza lontani come al solito da voler dare soluzioni semplici a problemi complessi come si può fare per equilibrare questo aspetto cioè si potrebbe cercare di andare a individuare zona per zona quegli autovelox che effettivamente sono in delle posizioni poco consone e così andare a lasciare solamente quelli effettivamente dissuasori o cos'altro? Beh intanto va detto che l'Italia è un paese che ritiene il record di presenza di autovelox in Europa perlomeno ed è un dato secondo me significativo perché noi parliamo di 11.130 apparecchi in Italia per esempio in Inghilterra ce ne sono 7.000 in in Germania ce ne sono meno di 5.000 in Francia meno di 4.000 noi dobbiamo averne così tanti questo sicuramente è un aspetto che non va secondo me sottovalutato poi c'è anche un'altra questione che va detta è nato per esempio questo movimento a cadone che contro le multe perché vessati attaccati multati tassati erano i cittadini di un solo comune però storicamente a Padova l'autovelox che ha fatto più discutere è stato quello di Albignase che ho posizionato in costa Australia in una posizione che voglio dire è difficile dimostrare che è davvero fatto per la sicurezza e però non sono i cittadini di Albignase che pagano le multe ma sono coloro che tranzano magari uscendo da Padova Sud gente magari che arriva anche da fuori regione e si trova a pagare questa tassa probabilmente il sindaco Giacinti non sarà contento di sentire che noi diciamo questa cosa però lo sa anche lui che senza quell'autovelox si perde una voce di entrata per il comune come quello di Albignase molto molto importante ecco io credo che però questa cosa insomma che passa in cavalleria come un fatto normale fatto normale non dovrebbe essere il problema di Fleximan rispetto anche al suo ruolo di supereroe come viene chiamato o di vendicatore è però secondo me il limite di questa operazione diciamo è il fatto che anche questa è una forma di delega cioè se accadono che tante persone sono messe insieme per poter stare contro qualcosa di non giusto Fleximan invece rappresenta quella forma individuale di protesta Ascoltiamo Massimo Cavazzana è un lavoro che anche i media secondo me dovrebbero aiutarci a sviluppare un processo di intelligenza che ci permetta di ritornare a un tavolo di discutere magari anche con la politica magari ridurre le sanzioni però rendere queste chiamiamole così sanzioni costruttive cioè io ti becco che la macchina è andata a 157 km all'ora è vero che non posso dire che c'eri tu ma la macchina è tua quindi essendo una macchina tua ti sequestro la macchina e te la do indietro se fai un corso di fatto con intelligenza e tu capisci quando l'hai una macchina uno devi renderti conto di quello che questo fa o se sei stato tu devi renderti conto come devi andare a guidare eccetera però in realtà non sono in piazza in strada a protestare per chiedere che venga regolamentato in un altro modo per esempio la legge che regolamenta i dispositivi che rilevano la velocità sicuramente il fatto che qualcun altro si occupi di questa grana non fa contenti tanti però ci dice anche che però se c'è così tanto malcontento perché nessuno si è mai mosso in maniera meno diciamo criminale perché poi insomma distruggere le cose magari non è mai giusto sputtosto è bene pubblico perché non è mai successo questo è chiaro che poi oggi sull'onda emotiva e sull'onda anche del grande apprezzamento che ha questo questo brand perché quello è diventato e molti partiti stanno attenti a non attaccare questo fenomeno è chiaro che anche le associazioni di consumatori sono contro l'atto violento tra virgolette ma sono invece però allo stesso tempo molto molto attenti a non condannarlo a priori perché comunque si sa che è impopolare attaccare chi mette in discussione il fatto di mettere le mani e le tasche dei cittadini. Beh Ivan collegandomi un po' a quello che hai detto probabilmente questo tipo di sentimento popolare individualista che appunto come hai detto tu Fleximan incarna dipende anche dal fatto che in un certo qual modo l'opinione pubblica probabilmente ritiene giusti gli autovelox però probabilmente pensa anche che in qualche modo adesso ci sia da mettere un limite rispetto al loro utilizzo la loro posizione certo questo è negabile quindi un po' collegandomi a quello che hai detto tu se mai verrà appunto individuato il colpevole o i colpevoli e questi verranno appunto poi smascherati verrà davvero combinata loro una punizione esemplare o invece per evitare appunto una forma anche se vogliamo di malcontento popolare su un tema così spinoso tutto si risolverà in una pena calmirata o qualcosa di simile cioè cosa succederà secondo te quando lo prendono? beh se uno poi fa una piccola ricerca anche online ci sono casi che sono molto antecedenti al fenomeno Fleximan nel febbraio 2020 a Tombolo non hanno abbattuto un autovelox nello stesso anno anche in un comune vicino a San Martino di Lupari era accaduto la stessa cosa e un fatto che si può ripetuto anche nel dicembre 2022 quindi Fleximan invece va posizionato dal punto di vista temporale nel 2023 da maggio 2023 in poi fino ai giorni nostri quindi chiaramente poi dopo diventa anche complicato riuscire a capire se la persona le persone che verranno individuate saranno coloro che sono responsabili di tutti gli attacchi che sono stati infatti gli autovelox che cosa che evidentemente possiamo dire tranquillamente non può essere e poi un altro aspetto che secondo me è interessante che hai giustamente evidenziato è questo fatto che pagare per le persone diventa è sempre spiacevole però è chiaro che poi dopo c'è la consapevolezza del fatto che ci sono anche altri valori oltre appunto il difendere il proprio patrimonio economico ed è quello della sicurezza sulle strade quindi sono tante persone che sono consapevoli del fatto che non è giusto che si sfrecci a qualsiasi velocità magari in centri abitati il Veneto è un territorio dove le strade spesso attraversano piccoli comuni bisogna fare attenzione ci sono attraversamenti piedonali ci sono bambini anziani scuole supermercati magari di piccole dimensioni dove per arrivarci se ci si va a piedi o in bicicletta ecco questi sono aspetti molto molto importanti il fatto di sovrapporli non rende giustizia da una parte e in più crea confusione invece bisognerebbe partire proprio dal primo aspetto che quello della sicurezza stradale per poi arrivare a pensare a come punire chi non segue le regole però va anche detto che le arterie stradali della nostra regione sicuramente non sono a posto quelle del 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 paese ancora peggio ci sarebbe anche da dire che i soldi che vengono raccolti dalle multe lo dice la legge dovrebbero essere impiegati proprio per la manutenzione e tenere sicure le strade ma questo insomma non sembra accadere Ivan grazie io concludo con un'ultima domanda che ti faccio e alla quale ti chiedo di rispondere con il solito candore e come dire sincerità che ti contraddistingue se Fleximan viene catturato tu dai i tuoi 5 euro per pagare le sue spese legali no non li darei 5 euro per pagare le spese legali ma perché io credo in un principio che le lotte le battaglie le vertenze vanno costruite insieme agli altri non può essere che uno si prende il carico di affrontare una questione e poi dopo così per pulirci la coscienza li paghiamo l'avvocato io credo che qualsiasi problema deve essere affrontato però da una forma in forma collettiva in forma di condivisione in forma di confronto come questo un paese dove è sempre più complicato confrontarsi invece è sempre più comune scontrarsi io credo che proprio di fronte a situazioni come queste che sono anche in qualche modo simpatiche perché diciamolo tutta questa storia del tipo travestito che va e taglia oppure fa esplodere come successo in pochi casi l'autovelox insomma crea nell'immaginario anche insomma scene comiche però poi dopo stiamo parlando di questioni che sono comunque serie ci si può scherzare per un po però a un certo punto le faccende vanno vanno affrontate grazie Ivan nel prossimo episodio parleremo della cerimonia di conferimento della laurea alla memoria in ingegneria biomedica a giulia cecchettin una tematica che abbiamo iniziato a trattare con il nostro podcast e sulla quale torneremo appunto a discutere e a dare delle nuove informazioni hai ascoltato ps post scriptum un podcast di padova stories condotto da alessandro pittoni e Ivan Grozni compasso post produzione mix e sound design sono a cura di Isabella Bortot